Buongiorno a tutti, sono Liliana Marciano, sono pensionata e vivo da sola. Oggi voglio fare la testimonianza a favore della Chiesa e dei sacerdoti, che in questo periodo sono attaccati ingiustamente. Io invece posso garantire che essi fanno molto per noi fedeli, sono molto vicini alle famiglie e aiutano anche economicamente. Aiutano molti giovani. Io personalmente sono molto contenta dei sacerdoti della mia parrocchia, perché per le molte attività che si svolgono io riesco a superare anche i momenti tristi della mia vita, momenti bui, perché stanno insieme alla nostra comunità riesco a dimenticare anche le cose a volte che affliggono la mia vita. E grazie sempre ai sacerdoti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.